Siamo con il Presidente Formaggi, una bella vittoria Presidente per tre reti a due, sul punto del 96. Sì, è stata una bella vittoria, una bellissima partita tra le due squadre che hanno combattuto, hanno segnato, l'abbiamo detreso, poi ci siamo fatti segnare, poi abbiamo segnato, cioè è stata una bella partita, certamente anche noi, abbiamo preso un palo e potevano anche barreggiare, noi abbiamo tenuto forse un po' più la palla, abbiamo giocato un po' più nel centrocampo, però è andata bene, è meglio così che abbiamo vinto noi, questo è il calcio. Non c'è che possiamo stare nelle prime posizioni. È una grandissima soddisfazione, facciamo andare avanti gli altri, però noi stiamo sempre dietro e poi alla fine vedremo quello che succede.